Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia Siamo in compagnia di un gruppo di bellissime fanciulle che vengono da Bergamo Queste bellissime ragazze di Bergamo vogliono salutare la mamma Ok dopo aver salutato la mamma io voglio salutare un ragazzo che non c'è qui con noi che si chiama Roberto Lui Roberto è il futuro sposo di lei che dopo dirò il nome quindi è il motivo per cui sono qui al convento di Lonato di Brescia Il sabato dinner and dance targato convento voglio un grande applauso per lei Dani Wow eccola qui la nostra Dani subito vicino al microfono Dani eccomi qua allora Dani quando è che ti sposi dimmi il giorno 22 settembre quindi ti sei portata avanti fantastica il 22 settembre sei sicura di sposarti? Sicurissimo ok allora dimmi subito a me un pregio e un difetto di Roberto vai il pregio Simpatico, allegro, figo dalla madonna Eh beh se no non te lo sposo giustamente il difetto ne puoi dire quanti ne vuoi anche di quelli È gay Ok gay non credo Un pochino introverso È un pochino introverso ok Io ora ti faccio una domanda invece un pochino più piccante e dopo il nostro Roberto ci farà sapere se è vero o meno la tua risposta È vero che mentre fai l'amore Hai mai pensato di dire che hai in parte un coglione perché non ti tratta la porchetta? Eh ci sta pensando ragazze serie che questo è un momento importante Dani secondo te ti tratta la porchetta? No no Nell'intimità Decisamente ti tratta la porchetta Ragazze un applauso che ha detto che l'ha tratta la porchetta Cos'è che hai detto? Ah lei è tenendo un po' di niente perché Ah è la tua damigella Due damigelle Una a destra e una a sinistra Dieci damigelle Tutte che vengono da Bergamo Allora ragazzi che canzone volete cantare? Dieci ragazze Siete pronte? Vai Bergamo Perfetto Ho visto un uomo che moriva per amore Ne ho visto un altro che più lacrime non ha Nessun coltello mai ti può ferirti più E un grande amore che ti strisce il cuore Vai Bergamo Che dieci ragazze per me Posso portare Che dieci ragazze per me Voglio dimenticare Che a me non mi voglio rinforzare E la bravo stessura in quale morire Che dieci ragazze per me Sono per me La voce è Dani Vorrei sapere che ho intanto Una voglio perché Saper parlare Va bene lo stesso ci stava Una voglio perché Ancora da un pochino amore Una soltanto perché Ha conosciuto tutti i grandi e me E dieci ragazze così Ne dico solo di sì E vorrei sapere che ha detto Che non vivo più senza te Matto Quello è proprio matto perché Forse non sa Che possa averne una Per il giorno E una Per la sera Però quel matto mi conosce Perché ha detto Una cosa vera Dieci ragazze per me Posso portare Dieci ragazze per me Io voglio dimenticare Capelli biondi da carenzare E la bravo stessura in quale morire Dieci ragazze per me Le dico solo di sì Non è capito che ha detto Che non vivo più senza te Matto Quello è proprio matto perché Forse non sa Non l'hai capito però E come non penso Una per il giorno E una per la sera Però quel matto mi conosce Perché ha detto Una cosa vera Vai vai Le bijou Dieci ragazze per me Dieci ragazze per me Dieci ragazze per me Però io voglio per te Vai Dani Però io voglio per te Però io voglio per te Bravissime Fate un applauso per la Dani Bergamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti